Una vicenda squallida, penosa, quella emersa proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne che trova il suo epilogo con l'arresto da parte dei carabinieri di Molfetta di quattro ragazzi, tutti maggiorenni accusati di aver fatto parte di un branco di una decina di persone, alcune minorenni, che hanno violentato in varie e ripetute circostanze una ragazza di 14 anni. Si tratta di arresti domiciliari, sebbene la richiesta della PM Mirella Conticelli, titolare del fascicolo d'indagine, riguardava la misura cautelare in carcere per 5 persone. Per il quinto indagato però il dubbio riguardava l'età in quanto forse non ancora 18 anni all'epoca dei fatti, per questo la sua posizione insieme a quella di altri minori è finita l'attenzione della procura minorile di Bari. I fatti risalgono alla primavera estate del 2012, uno stupro che si inquadra in una serie di atti di violenza di cui la ragazza è stata vittima, due quelli accertati. La violenza di gruppo circa 10 ragazzi tra i 16 e i 24 anni è stata compiuta in un luogo pubblico, l'anfiteatro di Ponente a Molfetta, nell'aprile 2012. In 10 assistevano, mentre in 5 l'hanno violentata. Un secondo caso accertato riguarda uno solo dei giovani che, collegando ancora una volta la buona fede della ragazzina, è riuscita a violentarla di nuovo, un mese dopo. I dettagli, è stato detto nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la procura di Trani, sono estremamente scabrosi. Quel che è certo è che la ragazzina conosceva il gruppo, ma quelli che si erano dimostrati, ragazzi tranquilli, nei quali la minorenne probabilmente aveva riposto fiducia, alla fine si sono rivelati essere dimostri. Sono riuscite ad adescarla, l'hanno ingannata e hanno approfittato di lei. Un inseguimento è andato avanti per mese, scaturito dalla falsa idea che la ragazza, a 14 anni appena, fosse una disponibile a tutto. E questo per colpa di un falso profilo Facebook, aperto prima delle violenze all'insaputa della vittima. Non c'è dubbio sull'identità di chi ha creato quel profilo, ha spiegato il procuratore aggiunto Francesco Giannella. Non è però tra le persone indagate. Sul collegamento tra il profilo Facebook e le violenze sono in corso indagini, ma sicuramente quel falso profilo potrebbe essere una concausa, perché ha indubbiamente creato un allone di disponibilità attorno alla ragazzina. La vicenda è stata ricostruita con molta difficoltà, perché la vittima aveva scelto di non raccontarla alle forze dell'ordine. In un primo tempo l'ha tenuta nascosta, perché voleva solo rimuoverla. Poi, quanto vissuto dalla giovane, è stato confidato ad alcuni conoscenti e parenti e amici. A distanza di tempo la minora ha acquisito consapevolezza ed è riuscita a raccontare tutto. In questa circostanza, dagli inquirenti, arriva un importante appello. Noi interveniamo a cose fatte, vorremmo poter evitare di intervenire a cose fatte. Quindi, come già ho detto prima, molta prudenza nei rapporti anche con quelli che possono sembrare amici. Una sana diffidenza, un utilizzo molto ragionato dei social network che possono portare a conseguenze molto pesanti. Ecco, molta prudenza. Intanto le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, proseguono per identificare gli altri presunti componenti del gruppo. Di quattro giovani arrestati, tre hanno piccoli precedenti penali. Le accuse sono di violenza sessuale di gruppo aggravata e sequestro di persona. La ragazza, che veniva continuamente contattata dai suoi aguzzini e minacciata perché non raccontasse nulla, ha anche tentato di rendersi irreperibile, cambiando numero di cellulare. Ma dopo un periodo di relativa calma, l'incubo è ritornato.